Dottor Mandò, la tecnologia digitale è in soccorso per sconfiggere il Covid? Ma più che per configgere, per tenere in sicurezza i pazienti a domicilio. Noi non facciamo terapia, facciamo mitoraggio e dobbiamo in qualche modo gestire in sicurezza questi cittadini. Vi ricordo a tutti che il Covid è una malattia della solitudine e quindi le persone se si sentono tutelate possono rimanere anche a domicilio. Quando si sente un sole il problema poi esplode prima o poi. Quindi si fa anche degli accessi in ospedale anche per questa patologia. Noi non ci siamo inventati niente, abbiamo preso la tecnologia, abbiamo preso un saturimetro con un bracciale e un patch cutaneo. Questi sono gli strumenti che noi adoperiamo in questa situazione qua. Qual è il vantaggio di questo strumento? Perché trasmette tramite questo bracciale al telefonino del paziente che ha scaricato l'app e l'app del telefono parla con l'app della centrale e ci trasmette giornalmente ma ogni 5 minuti la saturazione che è la quantità dell'ossigeno che c'è nel sangue del paziente, la frequenza respiratoria, la frequenza cardiaca e la temperatura tramite i patch che ho qui sui torace. Dopodiché ci trasmette anche lo stato di idratazione di questo paziente perché uno dei problemi è anche la disidratazione di questi pazienti qua che poi generano problemi di trombosi. Quindi possiamo dare anche delle istruzioni a domicilio. Per esempio la respirazione prona si può già fare, vediamo che migliora la saturazione quando si prona. Si può fare il test in cammino, far vedere se quando lui cammina desatura sì o no. Possiamo verificare che se beve un po' di più migliora lo stato di idratazione e quant'altro. Quindi non solo lo monitoriamo, ma possiamo dare anche dei suggerimenti terapeutici per migliorare il suo stato di salute. Quindi in moto, io l'avrei chiamato la badante del Covid, ma più che altro in moto è che nessuno deve sentirsi più solo, abbandonato, cioè noi dobbiamo dimettere o lasciare a domicilio i pazienti in sicurezza perché non possiamo pensare che la gente sia disperata al punto di aver ricorrere in ospedale anche in modo improprio. Già in ospedale siamo strapieni tutti, quindi avere in ospedale solamente chi deve andare è una cosa importante. E con questo strumento qua, quindi con il saturimetro e il patch toracico, riusciamo a dargli la sicurezza, a meno da questi pazienti qua, di essere tutelati. Non sono più soli. C'è qualcuno che dal remoto vede ogni 5 minuti il suo stato di salute. È già iniziato questo controllo? L'abbiamo già iniziato, l'abbiamo fatto noi insieme alle USCA, perché un'altra cosa importante è che non si lavori a comparti stagni. La USCA lavora in territori come il 118 e abbiamo deciso di lavorare insieme, di distribuire insieme questi bracciali. L'altra cosa che abbiamo pensato di farlo è farlo con il pronto soccorso, perché anche il pronto soccorso può dimettere in sicurezza un paziente, non deve andare né in malattie infettive né tantomeno in rinanimazione, può andare in suo domicilio, ma monitorato. Ne abbiamo già messi uno anche stamattina. Quindi ora aspettiamo 7-8 giorni, vediamo come vengono fuori i dati, se vengono bene, se ci sono problemi o non ci sono problemi. Poi lo diffondiamo a tutta l'area vasta, perché il nostro obiettivo è poi portarlo anche a Siena e Grosseto e fare in modo tale che tutti avranno le proprie chance. Si può pensare che solamente Arezzo le possa fare. Quindi il mio obiettivo, come direttore del dipartimento, è poi arrivare anche a Siena e a Grosseto. Devo dire anche che questa cosa qui l'abbiamo già mandata ai nostri colleghi in regione, degli altri 118, per vedere se anche loro apprezzano l'iniziativa e possano fare qualcosa anche loro. Quindi Arezzo ancora una volta si dimostra un'eccellenza? Arezzo si dimostra curiosa, cerca le cose più importanti per la gestione dei propri pazienti e la curiosità poi paga. Grazie.